La prima vittoria del nuovo corso, ma che sofferenza in quei minuti finali è Luciano? Grande sofferenza, ma vincere senza soffrire non sarà possibile e quindi chiaramente abbiamo vinto, portiamo a casa la grande vittoria in termini di risultato. È chiaro che la prestazione è ampiamente migliorabile, però sono sincero, sono molto contento. Che cosa è mancato per chiudere la partita e per non rischiare, perché a parte il pallo del primo tempo che era viziato da un fallo clamoroso, Poi però comunque il Grosseto vi ha messo in difficoltà e nel finale vi ha spaventato. Assolutamente, noi salviamo della forza del Grosseto perché l'abbiamo vista nelle ultime 4-5 gare, ha offerto delle buonissime prestazioni, oltre a fare anche risultato, per cui conosciamo benissimo la loro forza. Noi abbiamo provato a fare qualcosa, ci siamo riusciti dopo il gol, pareggiandola subito, probabilmente abbiamo avuto qualche fantasma per cui ci siamo un pochettino impauriti. Ma loro hanno fatto una partita con delle occasioni, l'abbiamo avuta anche noi, è chiaro che in casa un po' meno sofferenza me la sarei aspettata. Ti chiedo due cose prima di dare la linea allo studio. La prima sull'impostazione iniziale, Pontisso Play, addirittura a Pompetti molto alto, quasi vicino alla punta Ferrari. Ferrari che si abbassava per costruire il gioco e aveva delle praterie d'ursi, l'avevi preparata così? Allora, sono molto sincero con loro, i calciatori sono loro, le caratteristiche, le qualità sono le loro, sarebbe troppo semplice di fare uno più uno ogni volta. In base a quello che leggono, i giocatori devono agire e quello è stato. Quindi sicuramente Dursi, la sua forza la conoscevo ma oggi si è vista, anche lui è clemenza quando si è acceso. Pompetti è un ragazzo che è messo da mezzala, ci offre quella dinamicità e quella qualità che in fase realizzativa, oltre che di assist, potrebbe essere importante e me lo auguro anche per lui. Leggermente meglio, anzi senza leggermente meglio, con Derisio Play e Pompetti spostato a destra, perché proprio per quella fase offensiva, piedi invertito, è stato pericoloso. Le soluzioni erano appunto quelle, anche prima della partita, insomma l'idea Pontisso mi stuzzicava. Purtroppo anche per il suo infortunio, ha stato identico, ha giocato lo stesso, poi ha dovuto uscire per un male al piede. È chiaro che può fare molto meglio, sono obiettivo, però comunque dal punto di essere impegno e atteggiamento, lui come tutti quanti gli altri ha offerto un'ottima prestazione. È chiaro e migliorabile, troppi errori in fase di disimpegno, insomma una squadra con questa qualità non può sbagliare così tanto. Se mi dite a me una domanda per Razzauri, la giro subito al tecnico che non ha l'auricolare. Faccio fare naturalmente all'allenatore in studio, ex calciatore Fabio Ferraresi. Innanzitutto un saluto affettuoso di cuore a Luciano, è bentornato, è una persona in gamba e gli auguro tutte le fortune che merita. La domanda che farei, veramente volevo farla sul centrocampo, ma me l'hai fregata tu Enrico, quindi volevo chiedere al mister se ha intenzione di continuare con questo sistema di gioco in base alle caratteristiche della squadra che sta allenando. Allora, intanto ciao. È chiaro che in tre giorni ho cercato anche di cambiare il meno possibile anche per le caratteristiche della squadra. Io la vivrò in base a chi affronto, non ho chissà quanto tempo, quindi cercherò di fare il meglio per una singola partita. Adesso facciamo la conta, purtroppo con gli infortunati, oggi ne abbiamo perso sicuramente uno che è Zappella. Ci può dare aggiornamenti? A spalla, quindi... Il Presidente ha detto in ospedale ridurre la lussazione, tempi di recupero ne ha parlato col dottore? No, ancora no, quindi in ospedale aspettiamo notizie. Per quanto riguarda Pontisso, uguale, un giocatore che si è fatto male all'alluce, è uscito perché non riusciva più a correre, quindi già con questi due giocatori in meno, insomma... Non ci sarà neanche Terizio. Facciamo domani la conta degli assenti, poi cerchiamo di capire un po' come sarà andare meglio a giocare a Pistoia. Anche perché Massimo, e chiudiamo, diceva che non ci sarà neanche Terizio perché ha preso il cartellino della diffida. Quindi, insomma, non ne ho più, sono figli centrocampisti, quindi speriamo di recuperare qualcuno e andremo sicuramente a Pistoia a fare la nostra partita, vediamo con quali uomini.